Il pareggio interno con il Città di Castello ha interrotto la rincorsa verso il Primato dell'Aquila. Un passo falso molto pesante alla vigilia di un altro turno che poteva essere a favore dei Rosso Blu. Arzachena e Rieti si sfidano nello scontro diretto e la squadra di Massimo Morgia, se vuole rimettersi in corsa, ha solo l'obiettivo della vittoria. Domani, in casa della Torres, trasferta che però è più complicata del previsto. Un po' perché la compagine Sarda non è più la squadra materasso dell'andata, rinforzata dalle presenze del portiere Pinna e del Bomberfrau. Un po' perché il viaggio verso Sassari è stato più logorante che mai, con la squadra costretta a viaggiare in traghetto nel corso della notte, dopodiché più di un'ora in autobus a seguito dello sbarco a Olbia. Convocati Noman e Malus, non al 100%, se non altro Morgia ritrova Russo dopo la squalifica. La sua assenza si è sentita domenica scorsa. Anche l'Avezzano ha necessità di riscossa, benché il K.O. in casa del latte dolce e pregiudichi la scalata al quinto posto lontano, 8 punti. Il presidente Paris si è fatto sentire in settimana. Per la sfida di domani col San Teodoro, il tecnico Tortora sarà privo di leto squalificato e di tabacco stirato. Problemi anche in avanti con le assenze di Di Genova e Serrago. Sugli spalti, probabile che ancora una volta gli Ultras disertino il De Marsi per protesta verso la società. Momento di magra anche per le abruzzesi del girone F. Sfida salvezza delicata per il Pineto, reduce dallo scivolone interno imprevisto con il Castelfidardo. Ad Alfonsine in paglio punti pesanti. Un'altra sconfitta aprirebbe una piccola crisi alla vigilia del momento decisivo della stagione. In settimana tegola per la compagine Ravennate, che si è vista rifilare la sconfitta a tavolino, 0-3, per la partita con il Romagna Centro, finita sul campo 1-1, per la posizione irregolare del calciatore Bamonte. A caccia di punti in chiave play-off il San Nicolò, che oramai ha abbandonato velleità di Vett. Al Bonolis la squadra di Epifani riceverà un campo basso rinvigorito dalla cura di Massimo Silva, 10 punti nelle ultime quattro partite per i Lupi. Al contrario, finora un girone di ritorno da 6 punti in altrettante gare per la squadra di Massimo Epifani. Cammino deludente. Peggio ancora ha fatto la vastese, reduce da quattro sconfitte consecutive. Non è bastato l'avvento in panchina del neotecnico Favo. I play-off sono scivolati a 5 punti e domani all'Aragona arriva la lanciatissima Vispesaro, vicecapolista e trascinata dai gol del capocannoniere Costantino. La sfida nella sfida potrebbe stimolare il bomber vastese Prisco, che nelle ultime settimane ha segnato il passo.